allora ecco qui siamo su questo rodax come vedete perdite di nessun tipo motore brillante l'elica è da 160 doppio le candele qui abbiamo il perno per eventualmente smontarlo poi abbiamo anche queste aree qui una due e tre poi abbiamo il trim del gas in volo l'interruttore on off le prove magneti freno a disco acceleratore a pedale con rientro freno grande borsa capiente sotto riservatoi auto dei collanti ruote larghe